Candela, una volta al mese, smonta e controlla. Il programma speciale Torna a Casa ti dà un sacco di informazioni sulla candela. Ti ho messo tante foto per vederla nelle varie forme, candela nera, nocciola, bianca, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente la candela che per te deve essere allarmante è la candela bianca. Se trovi la candela bianca, preoccupati. Quindi, una volta al mese, smonti la candela, la controlli, lei ti dice come sta il motore, ti dice esattamente che cosa ha, su cosa ti devi concentrare. Anche qui, ti ripeto, il programma speciale Torna a Casa ti dà un sacco di informazioni. Una volta al mese, check della candela. Quindi, ricapitolando, le tre cose che ti allungano la vita al motore sono olio miscela, olio cambio e il check della candela da fare una volta al mese. Poi, per ulteriori informazioni, il programma speciale Torna a Casa ti dà tantissimo, ti fa sapere tantissime cose e ti aiuta soprattutto nei momenti peggiori, quando magari resti a piedi, sei rimasto per strada. Quello è salvifico in quei momenti. Ciao!